Blogosfere ha il piacere di incontrare e intervistare Marina Salomon, amministratore unico di Altana. Marina, ciao, benvenuta su Blogosfere. Partiamo con un argomento in linea generale, le donne e il mondo del lavoro. Come hai conciliato l'esigenza e il piacere di avere una vita familiare, perciò una famiglia tra l'altro molto numerosa e bella, con gli impegni di lavoro? Più che altro non me l'hanno fatta fare la famiglia fino a quando ho avuto 34 anni il primo figlio, nel senso che il mio compagno dell'epoca non voleva i bambini e quindi io ho fatto le aziende al posto dei figli fino ai 34 anni, ho lavorato duramente duramente fino ai 40, 42 e poi ho cambiato modo di lavorare, ma prima non avrei potuto permettere. Come è la tua settimana tipo? È fatta di alcuni giorni in cui lavoro intensamente fuori in altre città seguendo aziende diverse, tipo una giornata tra Venezia e Treviso dove ci sono l'abbigliamento e una partecipazione in una banca quotata, una banca privata. Una giornata a Milano in cui ci sono Docs, Metodos e altre trattative, una giornata in cui magari tra Emilia e Toscana apro altri fronti di trattative con altri industriali e altri giorni invece in cui lavoro in orario scolastico dal computer o teleconferenze per fare i consigli e poi quando i bambini escono da scuola faccio la mamma due pomeriggi. Allargando invece adesso lo specchio, secondo te, nonostante tutte le lotte che le donne hanno fatto nel corso degli anni per raggiungere una certa indipendenza sia lavorativa che poi femminile e personale, com'è possibile che oggi come oggi ancora sia così difficile per le donne emergere nel mondo del lavoro? Tu sei un po' un'eccezione, tra virgolette. Ma siamo una società che è stata povera ed economicamente arretrata in Italia fino a 30 anni fa, forse 35, per cui è come stessimo recuperando più generazioni in una. Se le francesi stanno meglio di noi e fanno anche il 50% di bambini in più di noi e lavorano al 50% in più di noi e fanno anche carriera molto molto più di noi è perché hanno come dire una storia borghese, una storia di economia evoluta più antica, la storia di uno stato più strutturato di noi. Noi è come fossimo passati velocemente dall'età della pietra per assurdo all'età dei PC. Metteremo a posto le cose, non correranno ancora una o due generazioni e occorrerà tanta più autostima e fiducia in noi stesse nella possibilità di farcela. A presto!